Buongiorno, mi sono svegliata da pochissimo, stamattina vi do il buongiorno dal bagno in sottofondo sicuramente sentirete anche Tino perché l'ho fatto partire subito appena sveglia così mi pulisce la zona notte, nel frattempo io prima di fare colazione stamattina voglio fare una maschera e devo andare a recuperarla in camera da letto, tra l'altro devo anche rifare poi, cioè cambiare la biancheria del letto perché insomma volevo lavare questa quindi già che c'ero cambiavo addirittura anche la biancheria perché volevo mettere quella azzurra, comunque stamattina faccio questa, c'è una luce pazzesca oggi mi sono svegliata con un sole meraviglioso e come vi ho già accennato nella zona notte la zona notte è molto molto luminosa e infatti ho il sole completamente in faccia comunque stamattina faccio la Coco Wow di Hello Body e poi andiamo in cucina per fare un cappuccino nel frattempo, Tino è arrivato in bagno quindi è meglio che io mi svegli altrimenti continuo a passarmi sopra i guidi ho chiuso la porta così per un attimo, si occupa di fare le altre stanze e poi viene qua tra l'altro ho ricevuto diversi commenti dedicati al robot in quanto alcuni di voi mi chiedono come fare a mappare più piani quindi ad esempio per chi ha una casa su due piani o magari per chi come me ha la zona giorno separata da qualche gradino della zona notte in realtà tutto questo l'ha sempre fatto lo stesso, è sempre occupato di questo lui ha scaricato l'applicazione dicevo lui ha scaricato l'applicazione e si è occupato di andare poi a gestire l'app in sé però da quello che ho capito lui allora bisogna scaricare l'applicazione poi ha creato diciamo due zone quindi la zona giorno e la zona notte ad essere sincera io adesso Tino lo lascio solo nella zona notte quindi la mattina o il primo pomeriggio lo faccio partire anche se non sono a casa così mi pulisce tutta la zona notte mentre invece la zona giorno la faccio io diciamo mano con l'aspirapolvere perché così Tino sa, io lo chiamo Tino, è proprio quello che pulisce ok, altrimenti magari non mi capite lui lo lascio solo nella zona notte, mi parte dalla camera da letto fa tutta la camera, poi fa il corridoio, fa lo studio poi fa la cabina armadio, poi viene in bagno, poi magari fa ancora qualche giro comunque a forza di farlo, lui ha imparato, diciamo, ha mappato questa zona della casa e quindi nel giro di 50 minuti, forse qualcosina di meno, mi fa tutta la zona notte e per fare di mappare la zona della cucina praticamente spostavamo il robot ovviamente per forza di cose a mano e lo mettevamo in cucina e dopo dall'applicazione andevamo nella stanza open space, così noi l'abbiamo chiamata e spostavamo Tino anche dall'applicazione quindi lo spostavamo dalla zona notte alla zona giorno e poi facciamo partire la polizia maschera applicata, adesso la tengo in posa una 15 a 15-20 minuti al massimo e dopo vado a sciopare e finisco la mia skin care, intanto mi preparo un cappuccino perché stamattina ho una voglia di cappuccino pazzesca, in realtà ce l'ho tutte le mattine ma stamattina ho ancora di più, tra l'altro oggi non vado a lavoro perché abbiamo ripreso a lavorare da ieri da questa settimana siamo diventati in zona arancione, in realtà hanno sbagliato i conti quindi anche la settimana scorsa non dovevamo essere in zona rossa comunque meglio che sono accorti prima che dopo, anche se vabbè lasciamo perdere e quindi abbiamo ricominciato subito a lavorare, già da ieri abbiamo fatto soltanto una settimana alla fine a casa sono tornata a lavoro, oggi però giornata di riposo, ma in realtà è una giornata molto impegnativa perché fra poco, tra l'altro, fra un paio d'ore, anzi meno di un paio d'ore, fra un'oretta e qualcosa arriva, vengono i piastrellisti, così gli spiego il lavoro che voglio fare sui gradini e poi mi danno, mi farò fare sicuramente il preventivo e poi voglio capire un po' la loro disponibilità e quando possono poi partire con i lavori così da organizzare sia, perché voglio essere ovviamente in casa quando fanno i lavori perché diciamo che voglio seguire tutto quello che fanno per non trovare più sorprese particolari quando torno a casa preferisco essere presente e quindi devo organizzarmi con loro, con il mio orario di lavoro per poter poi far combaciare tutto è arrivato il mio momento preferito, ovvero la colazione stamattina utilizzo questa tazza per il cappuccino che mi avete chiesto di dove l'ho presa questo in realtà è stato un regalo, sono della molino bianco come vedete qui dal logo e le ho di quattro colori, oggi ho scelto questa azzurra tra l'altro trovo che stia molto bene anche con il colore del tostapane comunque prepariamo il cappuccino ho già messo la cialda del latte e adesso andiamo di caffè il cappuccino pronto nel frattempo non so se si vede ma penso di sì la maschera si è già seccata un attimino adesso la tengo in casa ancora a 5 minuti e poi vado a scequarmi altrimenti arrivano i piastrellisti io sono ancora conciata così, direi che non è il caso tra l'altro devo finire di sistemare anche il tavolo qui in sala perché questa ve la devo raccontare sono rimasta troppo contente ieri allora devo dire che ste è bravo è bravo perché mi aiuta in casa come è giusto che sia subito le mani avanti prima di che qualcuno dica è ovvio che anche l'uomo deve aiutare sono assolutamente d'accordo ieri è prima di andare a lavoro lui lavorava da casa ha fatto le 8 ore da casa e gli dico guarda che è finito la lavatrice magari quando hai tempo stendi le cose e c'era uno stendino pieno di cose che non avevo ancora ritirato perché dovete sapere che io odio ritirare le cose dalla lavatrice cioè dallo stendino preferisco fare la lavatrice preferisco svuotare la lavastoviglie ma andare a stendere riprendere i panni è una cosa che io letteralmente odio preferisco mille volte pulire il pavimento o cose così e sono arrivata a casa ho trovato tutto lo stendino ovviamente va bene la lavatrice stesa i panni della lavatrice precedente tutti belli piegati sistemati nei propri cassetti compresi i miei ad esempio il mio intimo io sono fissata e voglio che le cose vengono piegate in un certo modo e che vengono messe in un certo modo tipo le calze nere tutte insieme le calze grigie tutte insieme i fantasmini insieme e a volte in un determinato modo le mutande insieme eccetera sono arrivata a casa e vedo tutto tutto in ordine e gli dico ma anche lei hai messo via anche le mie calze come le metto via di solito certo ho detto fammi andare a controllare perché immaginavo che avesse insomma messo le cose un po' così apro il cassetto era tutto tutto perfettamente in ordine come dico io ho detto ah che bravo e mi fa vedi non ti fidi mai di me e invece è proprio è proprio proprio bravo cioè avrebbe potuto prendere le calze e metterle via in un modo diverso dal mio e invece no ha guardato come le metto via io e le ha messe via nello stesso modo quindi ha detto sì vai così la prossima volta farò fare sempre solo lui la lavatrice perché io la odio letteralmente in realtà non è che odio fare la lavatrice perché quella la faccio anche volentieri se ci sono le cose da lavare ma io odio stendere e ritirare le cose quella è proprio una cosa che non mi piace per niente fare fatemi sapere qui sotto nei commenti qual è la cosa che più odiate fare in casa cioè tra tutte le cose possibili immaginabili qual è quel lavoro che o non fate lo fate fare al marito o lo fate ma magari non volentieri comunque che non vi da soddisfazione non vi piace fatemi sapere a me non dà assolutamente soddisfazione stendere neanche un po' si è fatto tardissimo io non ho più filmato da prima nel frattempo mi sono truccata mi sono cambiata in realtà sono vestita molto sportiva perché ho appunto una delle tute che ha scelto ste per me tra l'altro sotto quel quel video in tante mi avete scritto ma sono tutte cose uguali ma tutte tute un po' poteva variare un po' di più sì effettivamente poteva variare un po' di più però vi sto vi assicuro che le sto utilizzando tutte per stare in casa perché sono di una comunità pazzesca ad esempio oggi visto che c'è il sole voglio portare a un tale cagnolino e fare una passeggiata speriamo di riuscire a gestirle tutte e due perché oggi sono a casa da sulla ste andato in ufficio e voglio prenderle tutte e due più che altro gioia perché lei ama proprio andare moca invece a volte cammina a volte invece non vuole non vuole muoversi quindi sta in braccio un attimino poi invece se la lascio va solo all'inizio fa un po' questo fa un po' tribulare diciamo così che quindi non cammina subito però se la lascio a casa sicuramente piange quindi le prenderò tutte e due cercando di di riuscire a gestirle e e anche andare a portare le cagnoline la tuta è comodissima davvero comodissima comunque tuta a parte devo ancora pranzare infatti ho anche parecchia fame perché oltre al cappuccino e ad un macarone stamattina non ho mangiato nulla e sono è già l'una l'una e cinque quindi adesso vedo cosa farmi ho delle mazzancolle in frigorifero che ho preso ieri al supermercato io di solito le faccio al forno con un po' di gratinatura però non so se farle per pranzo oppure stasera per cena adesso vedo vedo un attimo cosa fare e parliamo dei gradini cosa mi ha detto il piastrellista allora in realtà sono venuti in due e anche loro hanno approvato con me che fare da da muro a muro il primo gradino sta sicuramente meglio che non lasciare lo spazio come avevo pensato la prima volta quindi quello è fatto poi c'è la forma siamo sicuri l'unica cosa che mi hanno detto è stata che praticamente ovviamente bisogna vediamo se riesco a spiegarvi senza rompere le cose ho paura di fare un danno qui c'è una piastrella perché l'ho presentata per cioè gliel'ho fatta vedere per capire se si poteva utilizzare loro mi hanno detto assolutamente di sì anche perché mi dicevano che nel 90% dei casi il cliente attualmente cioè in questi ultimi anni chiede di fare i gradini o comunque anche le scale con lo stesso materiale del pavimento per avere una bella continuità il 99% dei clienti vuole tutto uguale e quindi sì si utilizza tranquillamente la piastrella che viene usata anche sul pavimento l'unica cosa che per fare l'angolino qui bisogna mettere un profilo io quello non lo volevo però essendo che la piastrella non è non ha il taglio per andare a fare questo pezzo qui si vede che non è rifinito bene se non si va a mettere una finitura sottile in alluminio quindi mi sa che devo farla mettere per forza adesso vediamo se c'è qualche mo cioè se con un con un fai da te di mio suocero perché lui mi ha detto che prova a levigare la parte che resterebbe a vista a lucidare leggermente se sta bene non faccio mettere il profilo se invece si vede che comunque non è il lavoro finito faccio mettere un profilo che comunque mi hanno detto che ci sono anche in alluminio molto molto sottili che poi molto sottili per forza devo tenere i 9 mm o il centimetro che è lo spessore della piastrella quindi più di tanto non posso farlo più sottile perché altrimenti non va a fare poi il lavoro che deve andare a fare però non è una cosa proprio super esagerata visto che io preferisco non averli loro mi hanno consigliato l'alluminio invece c'è chi vuole che questo profilo sia evidente se noti e quindi scelgono magari l'acciaio con uno spessore un po' più più alto vediamo però quello si vedrà al momento dei lavori tra l'altro mi hanno anche detto che tra 15 giorni probabilmente sono liberi quindi fra due settimane si potrà partire con i lavori quindi dovrò chiamare il fariname per farmi smontare la porta e via si farà insomma tutto confermato sono molto contenta ho già avvisato di questo e uscirà un bel lavoro hanno detto che starà starà bene perché ci sarà appunto questa bella continuità e mi hanno detto che fanno tutto loro quindi non c'è bisogno di chiamare nemmeno il muratore perché si occuperanno loro di togliere il marmo di stringere leggermente il gradino per farlo stare all'interno di questa parete in cartongesso e ho chiesto anche se mi potevano allungare il gradino un pochettino qui perché se ci fate caso vedete qui finisce il profilo della porta e il marmo esce di tanto così da questa parte invece vedete come è più più largo il pezzo in marmo c'è più spazio quindi ho chiesto se si poteva fare lo stesso la stessa lunghezza che c'è lì anche di qua e mi hanno detto di sì e quindi faremo anche questa leggera modifica al primo gradino le fughe mi hanno detto che le fanno come il pavimento il pavimento tra l'altro secondo me non si sono neanche corti perché io non ci ho nemmeno pensato perché ero presa a parlare dei gradini e loro mi hanno detto poi facciamo le fughe come sono quelle adesso del pavimento così tutto omogeneo e non si vede nulla non sembra fatto in un secondo momento e poi sono talmente chiare mi hanno detto che si perdono via quindi uscirà comunque un bel lavoro e si vedranno poco però non gli ho detto che inizialmente appunto loro me le avevano fatte grigie però con tutti i lavori con tutti i pavimenti che posano nelle varie case poi sono passati ormai due anni e mezzo e forse anche qualcosina in più no due e mezzo sì e quindi come fanno a ricordarsi però secondo me ha fatto il lavoro talmente bello e preciso perché se non si sono accorti vuol dire che sono stata brava cambio di programma siamo uscite prima di pranzo visto che c'è un bel sole oggi siamo in mezzo alla natura in campagna così le posso lasciare libere e sono tranquilla e loro fanno le loro corse e si divertono vero Gioia? andiamo adesso voglio vedere se riesco a farvi vedere una cosa Gioia ama giocare con i sassi quindi adesso ne tirerò uno e guardate Moka cosa fa vediamo se si avvicinano un attimo una eccola qui fanno tutto il tempo così si può dire praticamente che Moka è l'ombra di gioia comunque guardate che meraviglia giornata bellissima sono arrivata a casa vado alla fine ho deciso di fare i gamberi i gamberi le mazzancolle al forno quindi lo vado a accendere di solito faccio 190 gradi per 15 minuti intanto previscaldo il forno e vi faccio vedere come li preparo è davvero facilissimo è velocissimo e nel frattempo sto anche facendo un tenerone per le cagnoline l'ho trovato in offerta al supermercato perché erano in scadenza scade oggi e quindi l'ho preso adesso lo faccio a metà così lo mangiano loro per per pranzo glielo scaldo un pochettino giusto per non dare glielo freddo freddo di frigorifero pappa pronta e loro sono pronte quindi uno per uno Moka e gioia ecco qua dai buon appetito devo dire che avevano fame poverine sono le due e mezza quindi hanno fame sicuramente anche loro ecco qui io di solito questi quando faccio i gambri al forno li faccio sotto forma di spiedini però ho finito gli spiedini i bastoncini e quindi andrò a metterli semplicemente sulla carta da forno e di solito io utilizzo le mezzancole perché secondo me vengono meglio adesso vado a sbucciare completamente tutto tolgo la testa e poi preparo diciamo il la la gratinatura che faccio semplicemente con pan grattato un pizzico di sale prezzemolo volendo si può mettere anche un po' di aglio in polvere e formaggio il grano grattugiato ho sbucciato e lavato le mazzancolle qui ho già messo il formaggio e il pangrattato vado a mescolare un attimino poi io aggiungo anche un pochettino di aglio questo qua granulare giusto un attimino non troppo per dare un po' più di sapore e poi metto il prezzemolo visto che non ce l'ho fresco vado ad utilizzare questo poi aggiungo il pizzico di sale e prima mi sono dimenticata di dirvi ma metto anche un filo d'olio questa è la consistenza che più o meno insomma bisogna ottenere adesso vado semplicemente a versare le mazzancolle all'interno mescolo un pochettino e poi le metto sulla teglia con carta da forno e in forno a 190 gradi per 15 minuti i gamberi sono pronti adesso vi ho detto qualcosa di contorno da aggiungere perché non so se mi basta poi potrei mangiare anche una crepa visto che ieri le abbiamo aperte come dolcetto stavo pensando intanto che che ho mangiato ho acceso la tv e ho guardato quel cosina in televisione però stavo pensando che in realtà noi la televisione cioè io la televisione la guardo soltanto con stesse sono a casa da sola non la accendo mai ma proprio mai se non quando mangio giusto quei dieci minuti perché poi quando sono da sola mangio sempre molto molto velocemente perché non preparo chissà cosa e la accendo solo in quel momento lì poi per tutto il resto della giornata in casa c'è silenzio perché io la tv non la accendo mai invece so che c'è chi la accende anche magari come compagnia qualcosa ad avere in sottofondo io invece soltanto quando c'è cellula o a letto prima di dormire ci guardiamo una puntatina oppure quando stiamo cenando però se sono da sola durante tutta la giornata non la accendo mai e adesso che ho spento la tv stavo un attimo guardando il cellulare c'era un silenzio proprio una pace pazzesca e ho ragionato ho detto ho pensato questa cosa in tutti in questi due anni che sono qui la tv praticamente io l'ho sempre accesa davvero poco quando sono sola comunque a parte questo magari non me ne fregherà nulla ho acceso invece una candela stamattina perché quando viene qualcuno allora sapete che a me le candele piace accenderle in ogni caso ma mamma mia che inquadratura ma quando so che deve venire qualcuno in casa l'accendo ancora più volentieri per creare una bella atmosfera per profumare ancora di più la casa e l'ho accesa tipo verso le 10 e mezza se sta ancora andando saranno tipo le 3 e mezza e ho acceso quella di Ava May Bahamas che è buonissima è una delle fragranze più più dolci che hanno e a tal proposito volevo farvi vedere anche velocemente la box di San Valentino che hanno realizzato che è carinissima però devo andare a recuperarla perché ce l'ho nel mio studio questo è il cofanetto che trovo carinissimo infatti lo utilizzerò per contenere qualcosa magari all'interno di un mobile io tutte queste scatoline di solito le tengo e le utilizzo proprio per organizzare meglio i cassetti comunque la combo di San Valentino è la candela Bahamas e questa è una delle candele più amate da chi acquista su Ava May e poi la novità è questa Barbados questa è una fragranza molto estiva fruttata e fresca all'interno se non ricordo male c'è l'ananas il ribes e la violetta il ribes nero e la violetta e il pack anche di questa è meraviglioso ve la faccio vedere se c'è un codice sconto magari qui sotto in descrizione ve lo lascio però non mi ricordo se al momento c'è perché i loro codici sconto durano sempre poco comunque eccola qua no non ci credo questa ho preso la confezione giusta sì Barbados ma l'ho messa nella scatola sbagliata perché questa in realtà ve l'avevo già fatta vedere su su Instagram e poi nel rimettere via le cose ho invertito le confezioni comunque ma che profumo che esce da queste candele questa è Barbados e questa invece è Bahamas trovo le loro confezioni tra l'altro sempre molto graziose fanno anche arredamento perché io le loro candele le ho un po' sparse per tutta casa vediamo se mette poco allora ne ho una qui la ho al diffusore la ho un'altra candela poi qui ne ho un'altra ancora il vasetto è completamente in vetro il coperchio è nel legno e sono realizzate con cera vegana e questa box la trovo deliziosa anche perché questi due colori insieme stanno davvero benissimo adesso quasi quasi questa scatola la lascio vuota così organizzo magari le batterie che avevo acquistato per le lucine di Natale potrei metterle tutte qui e questa adesso vedo dove disporle in realtà ne ho altre che ho nel mobiletto perché comunque mi piace non voglio accenderle tutte per poi lasciarle a metà e quindi quelle che sto utilizzando di più adesso sono qui in soggiorno volevo mangiare qualcosa per merenda però ho guardato il telefono e sono le 6 e 20 quindi direi che non è il caso di fare merenda quest'ora anche perché fra poco arriva stai di solito quando vai in ufficio arriva a casa per le 7 e a 7 e 10 mi dice subito prepariamo la cena che ho fame e quindi è meglio non fare merenda quest'ora perché è troppo è troppo tardi tra l'altro tutto il pomeriggio c'è tutto il giorno che sono a casa e non ho ancora tolto la piastrella che ho preparato stamattina per i piastrellisti per farli vedere adesso la vado a rimettere nello studio insieme alle altre mi sono poi messa al computer a fare un po' di di cosine ho dovuto sistemare un po' di fatture del 2020 ho dovuto chiudere un po' di cose e quindi ho perso ci ho perso mi sono passate un po' di ore nel frattempo si è fatta sera quindi devo già pensare di nuovo cosa fare per cena ma stasera se ste me lo approva voglio fare il risotto uno stavo guardando la cosa mi sembrava di vedere qualcosa di strano invece forse solo la luce e comunque dicevo il risotto probabilmente lui mangerà quello ai funghi e io invece agli aspargi quindi adesso aspetto ste così prepariamo la cena insieme perché non è raro che inizi a preparare prima che arrivi che arrivi di solito lui arriva e poi ci mettiamo insomma a preparare la cena lui mi racconta le sue cose gli racconto le mie e cuciniamo anche anche volentieri tra l'altro prima ero lì davanti alla stufa con Giole stavo facendo un po' di coccole e mi è venuto un caldo pazzesco cioè questa tutta tiene un sacco di caldo poi ero praticamente appiccicata e quindi adesso ho un caldo pazzesco e infatti adesso bevo un goccio d'acqua perché incredibile mi è venuto un caldo addosso anzi anzi sapete cosa bevo l'acqua sicuramente fa bene però voglio un goccio di coca visto che la beviamo davvero molto 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 raramente in realtà prendiamo tipo una bottiglia ogni tanto al super così non ci abbiamo in casa e non non la beviamo però mi è venuta proprio voglia di coca e quindi coca sia cioè è troppo buona comunque c'è ogni tanto la coca ci sta ma mi stanno dando fastidio le lenti forse perché sono stata tutto il tempo al computer mi sono rimbambita forza di guardare tutte le fatture perché devo riportare tutti dei dati per ogni singola fattura ci ho messo tipo un'ora e mezza mi si sono incrociati gli occhi adesso mi danno fastidio le lenti comunque dicevo ogni tanto la coca ci sta quando bevo la coca con la pizza avanzo sempre la pizza quando invece non bevo la coca allora la pizza la mangio tutta perché effettivamente riempie anche questa comunque non vorrei dire ma guardate moca quando si dice vita da cani mi sa che è proprio così e alla fine ho fatto il risotto questo è gli asparagi il profumo è super invitante abbiamo finito di cenare è stimato a farsi una doccia poi andrò io quindi fra poco ci scambiamo stavo pensando di fare un bagno caldo però dopo va un po' più per le lunghe quindi preferisco fare la mia doccia più veloce mettermi il pigiama e poi guardare la regina degli scacchi stiamo guardando questa serie tv su netflix e devo dire che ci sta prendendo molto tant'è che l'abbiamo iniziata l'altro giorno tipo due giorni fa e siamo già alla quarta puntata poi anche molto veloce perché se non ero sono sette episodi quindi fra qualche giorno l'avremo già finita e e nulla direi di chiudere qui questo vlog e nel frattempo sono arrivate anche le cagnoline a farmi compagnia io spero come sempre che questo video vi sia piaciuto nel frattempo ci sono le piccole che stanno litigando cioè litigando per modo di dire loro quando viene quest'orario la sera impazziscono letteralmente si mettono a giocare come delle matte ovunque per casa è proprio il loro orario di gioco diciamo mentre invece durante il pomeriggio sono più tranquilla e dormono si vede che riposano bene durante il pomeriggio poi la sera si scatenano comunque ripeto spero che il video vi sia piaciuto vi sia stato di compagnia un bacione al prossimo video ciao salutate salutate piccole ciao 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 ciao